Firenze Blindata è il programma top secret per la visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu che da stasera è all'Expo di Milano e domani arriverà in Toscana. Le misure di sicurezza sono eccezionali, come sempre nel caso della visita di un capo di Stato, ancora di più per quello di Israele, forse il premier più scortato del mondo. Il piano di prevenzione è studiato nei minimi dettagli da Questura, Servizi Segreti, Italiani e Mossad. Ci saranno cecchini invisibili sui tetti del centro storico, cani anti-esplosivo, teste di cuoio. Abbiamo messo a punto un dispositivo tarato nel modo più adeguato per accogliere una personalità del livello di Netanyahu che impone livelli di sicurezza elevati, ha fatto sapere il questore di Firenze, Raffaele Micillo. Già comunicata alla Questura la manifestazione di protesta in Piazza Cionpi domani pomeriggio per dire no, diranno i volantini, all'imperialismo sionista. Su tutto il resto del programma è riservo assoluto, anche l'hotel verrà scelto all'ultimo minuto. L'ospite illustre dovrebbe atterrare a Peretola domani alle 15, accolto dal sindaco Nardella, tornato dalle ferie, e da Marco Carrai, presidente dello Scalo, ma soprattutto amico di Matteo Renzi e grande tessitore di rapporti con Israele. È stato lui tra i primi sponsor dell'invito che Renzi fece a Netanyahu un mese fa alla Knesset. Ma i condizionali abbondano, soprattutto sul programma, non si sa neanche se ci sarà un incontro con la comunità ebraica fiorentina che per ora smentisce, probabile solo una visita alla sinagoga, praticamente blindata già da domattina. Sabato sera è prevista una cena con il premier italiano in un ristorante del centro storico, tutto condito da mille forze, anche perché le passeggiate in centro, che tanto piacciono a Renzi, diventano un incubo per gli addetti alla sicurezza. La presenza delle forze dell'ordine, viene spiegato dalla Questura, sarà massiccia, ma il più possibile discreta. Il più possibile, poi, va carato sul capo dell'ICUD. Aree della città, strade o ponti potrebbero essere off-limits, lo spazio aereo supercontrollato, siti internet monitorati già da settimane.